Buonasera, è l'una e un minuto, ultima edizione del nostro telegiornale La Politica, sempre in primo piano in vista del voto il 25 settembre. I partiti si organizzano, cominciano a guardarsi attorno per le alleanze. Il Partito Democratico, preso atto che il campo largo col Movimento 5 Stelle non c'è più, guarda la sua sinistra a Bersani e a Speranza, ma anche a Calenda. Conte fa i conti con il tetto del doppio mandato e la preparazione delle liste. Il centrodestra avrà un nuovo vertice la prossima settimana. Lavori in corso. La costruzione delle alleanze nel centro-sinistra è già partita, prima ancora della direzione PD in programma martedì. La rottura con Movimento 5 Stelle è irreversibile, dice Enrico Letta. Si guarda ora una lista espansiva con un programma sociale. Si chiamano a raccolta i grandi ex, Pierluigi Bersani e Roberto Speranza, perché la sfida, chiarisce, è tra noi e la Meloni. Dialogo aperto con Articolo 1, Verdi, Sinistra Italiana e Socialisti e con Carlo Calenda. La sua azione è in crescita, ma lui è stato chiaro. Non ci si allea contro qualcuno, ma per qualcosa. Il minestrone contro la Meloni non ferma la Meloni. Domani presenterà con più Europa una proposta atlantista-europeista. Un grande fronte annuncia per l'Italia, l'Europa e il cambiamento. Più in dubbio un asse come Matteo Renzi, che lancia una nuova Leopolda a inizio settembre, convinto, dice, di poter fare ancora la differenza, ma precisa con chi e dove saremo è presto per dirlo. Nel Movimento dopo la frattura, Giuseppe Conte rivendica. Siamo noi i veri progressisti. È su questo campo che giocherà la sua partita, ma intanto deve fare i conti con le liste. I 5 Stelle perderebbero tra i 248 e i 288 seggi, tra loro molti big bloccati per ora da doppio mandato. Il problema è che riguarda anche il centrodestra, tranne Giorgia Meloni, l'unica che, sondaggi alla mano, potrà invece riempire caselle vuote. La leader di Fratelli d'Italia accusa, è ripartita la macchina del fango contro di me e aspetta il vertice di mercoledì in cui si parlerà di quote e di leadership. In Forza Italia smorzano i toni dopo gli addidi, Gelmini, Cangini e soprattutto Brunetta. Le sue accuse fanno male, almeno quanto le battute di Marta fascina nei suoi confronti. La Russia dopo 24 ore ha ammesso di aver bombardato il porto di Odessa, ma si è giustificata sostenendo di aver colpito una nave militare a un deposito di missili. Un attacco arrivato il giorno dopo la firma dell'accordo di Istanbul per far ripartire le navi con il grano che sembrava aver messo a punto in discussione questo accordo. Ma oggi Lavrov in Egitto ha detto che la Russia non farà nulla per impedire la partenza di queste navi, anche perché c'è da aggiungere che è stato sbloccato anche il grano di Mosca. Mosca rispetterà gli impegni presi ad Istanbul per garantire l'export del grano bloccato nei silos ucraini. Dall'Egitto, prima tappa di un viaggio che ha l'obiettivo di rafforzare i rapporti con i paesi africani preoccupati dallo spettro di una crisi alimentare, il ministro degli esteri russo Lavrov garantisce che l'accordo siglato separatamente due giorni fa da Mosca e Kiev con la mediazione turca e delle Nazioni Unite sarà rispettato. Le navi che partiranno da tre porti ucraini verranno scortate nel Mar Nero dalle marine russe e turca, spiega Lavrov, e da quelle di una terza parte non ancora indicata. Anche Kiev conferma di voler procedere con i preparativi per la ripresa dell'export dei cereali in tutto 20 milioni di tonnellate, nonostante quanto accaduto ieri nel porto di Odessa colpito da due missili russi, altri due sono stati intercettati dalla difesa aerea ucraina. Mosca ha ammesso la responsabilità dell'azione che ha fatto temere per la tenuta degli accordi. L'obiettivo, dice, non era il grano ma una nave da guerra ucraina e un deposito di missili. Lavrov è anche tornato ad accusare l'Occidente di distorcere la realtà. Non abbiamo pregiudizi sulla possibilità di riprendere i colloqui con Kiev su questioni più ampie, ha aggiunto il capo della diplomazia russa, ma questo non dipende da noi. La responsabilità, insomma, sarebbe di Kiev. Non la pensa così il presidente ucraino Zelensky. Quello al porto di Odessa ha detto che è un attacco cinico e calcolato che ha distrutto ogni possibilità di accordi per un cessato il fuoco. Torniamo in Italia. 500 abitanti di Cinigiano, un paese alle pendici della Miata, in provincia di Grosseto, sono stati evacuati per questo incendio che sta minacciando poteri agriturismi e case e anzi ne ha già danneggiata qualcuna. Il paese è circondato dalle fiamme, anche se quelle più vicine sono state domate. L'evacuazione è stata decisa per il denso fumo che rende l'aria irrespirabile. In molti hanno trovato ospitalità da parenti e amici, mentre un centinaio di persone hanno trovato sistemazione nei comuni vicini. Sul posto operano quattro canadere d'elicotteri della regione toscana. Con il bel tempo, come ogni stagione estiva, ripartono dalle coste del Nord Africa i viaggi dei disperati sulle carrette del mare. Molte poi vanno alla deriva e oggi ne sono arrivati molti anche a Lampedusa, dove l'hotspot è al collasso. Si è consumata ieri notte l'ennesima tragedia del Mediterraneo. Una nave con quasi 700 migranti alla deriva, poco più di 120 miglia dalle coste della Calabria, è stata soccorsa da tre motovedette della Guardia Costiera, da una nave mercantile che si trovava nei paraggi e da un'unità della Guardia di Finanza, oltre ai velivoli di marine a Frontex, che hanno permesso di evitare che il dramma avesse proporzioni maggiori. Cinque le vittime a bordo del peschereccio. I migranti sono stati trasbordati sulla nave di Ciotti e poi portati in Calabria e Sicilia, ma gli sbarchi si moltiplicano sull'isola di Lampedusa. Più di 700 migranti arrivati nelle ultime ore, tutti ospitati nello spot dell'isola, che è arrivato di nuovo a contenere 1.400 persone a fronte di una capienza che non supera le 350 unità. E in mare si trovano altre due imbarcazioni impegnate in operazioni di soccorso che chiedono un porto nel quale sbarcare Ocean Viking, nave di SOS Mediterranea. Infatti effettuato oggi due diversi salvataggi a bordo, si trovano quasi 200 persone e molte di loro sono donne e bambini. Ancora più complessa la situazione di Sea-Watch 3, sono cinque gli interventi già effettuati dall'equipaggio dell'imbarcazione dell'ONG tedesca, che chiede di poter tornare sulla terraferma per far sbarcare i 439 migranti che sono attualmente a bordo. È morto a 72 anni Vittorio Descalzi, musicista, fondatore del gruppo dei Neutrals. Era ricoverato a Imperia per i postumi di una fibrosi polmonare successiva ad un Covid. Poi l'istrumentista, cantante, autore genovese, amico di Fabrizio De Andrea, aveva collaborato con i più grandi nomi della musica italiana. Dieci giorni fa l'ultima esibizione, pur costretto su una sedia a rotella, aveva riproposto il concerto grosso per i Neutrals, opera che risale all'inizio degli anni 70, eseguita con l'orchestra sinfonica di Sanremo. Proprio a Sanremo domani si terrà la cerimonia laica per l'ultimo saluto. Oggi è stata una bella giornata per i colori azzurri dello sport. Massimo Ostano, campione olimpico nella marcia lo scorso anno, si è confermato ai mondiali di atletica sulla distanza dei 35 chilometri. Poi Lorenzo Musetti ha vinto il suo primo torneo ATP a D'Amburgo. È più difficile una conferma o un debutto? È più complesso ripetere un'impresa o compierla per la prima volta? I trionfi italiani del trentenne Massimo Stano, il ridato della marcia ai mondiali di Eugene e di Lorenzo Musetti, che a vent'anni ha centrato il suo primo torneo ATP a D'Amburgo, per una volta risolvono la questione. È meraviglioso in un caso come nell'altro. Il marciatore pugliese si è confermato il più forte al mondo andando a conquistare l'oro il ridato, peraltro su una distanza inedita come i 35 chilometri, a un anno dalla medaglia più pregiata ottenuta nella 20 chilometri ai giochi olimpici di Tokyo. Il trentenne poliziotto di Grumo Appula, sesto marciatore azzurro a vincere in un mondiale, ha dovuto spingere fino all'ultimo metro per piegare la resistenza del giapponese Cavano e andare a salvare un mondiale di atletica che, escludendo il bronzo della altista Elena Vallortigara, finora ha dato ai colori italiani solo delusioni. Se ripetersi è stato straordinario per Massimo Stano, stupefacente è stata la prima volta di Lorenzo Musetti, soprattutto perché al di là della rete c'era Carlos Alcaraz, l'erede già designato di Rafa Nadal, il ragazzo di Mursia, numero 6 mondiale a soli 19 anni, che fino ad ora aveva vinto tutte e 5 le finali che aveva disputato, 4 solo in questo 2022. Musetti, che non era nemmeno testa di serie, è piegato al Caraz 6-4 al terzo set in 2 ore e 47 minuti, dopo avere mancato 5 match point nella seconda partita persa al tie-break. Nella frazione conclusiva, la pressione su Musetti è diventata soprattutto psicologica, ma l'allievo di Simone Tartarini ha saputo unire al genio tennistico una tenuta nervosa che lo ha spinto fino al trionfo, ottenendo non solo i 330 mila euro di Montepremi, ma soprattutto la proiezione verso l'alto nel ranking, in una settimana scalato dalla posizione 62 al posto numero 31. Invece delusione per la Ferrari Charles Leclerc, che era partito in pole position al Gran Premio di Formula 1 in Francia, e invece non è andato molto lontano. Dopo i primi giri, il pilota Monegasco è incappato in un errore al diciottesimo giro. Leclerc ha perso il controllo della monoposto e è stato costretto a ritiro, lasciando via libera la Red Bull del capofila della classifica Verstappen, e adesso ha più 63 punti in graduatoria. Sul traguardo il campione del mondo ha preceduto le due Mercedes di Hamilton e Russell, tornate ad ottimi livelli la giornata storta della Ferrari, è stata solo in parte salvata dalla seconda guida Carlos Sainz, lo spagnolo partito penultimo dopo aver sostituito il motore, ha chiuso al quinto posto dopo una grande rimonta. 1.11, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buonanotte e arrivederci. 3.11, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buonanotte e arrivederci. 4.11, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buonanotte e arrivederci.